Buongiorno dalla Rassegna Stampa, sole 24 ore, il sole 24 ore prima della Rassegna Stampa di Tef Channel, mutui casa calano in Europa ma in Italia restano al 4.05, la moratoria per le famiglie diventa strutturale da febbraio perché non si fanno i tagli di spesa, questo è il titolo di spalla, e poi paese fermo giù le tasse con serietà, fisco e programmi. Il piazza Affari vola, BTP giù al 4.28%, il messaggero nazionale, alleanze, duello, Bersani-Monti. Il leader PD circa dica contro chi combatte, accordo dopo il voto, il premier prematuro parlarne, Berlusconi non candideremo inquisiti, no al fiscal compact, caso Veronica e giudici insorgono anniversari, ecco gli itinerari e a tema da non perdere, poi calcio stop alle partite per razzismo a decidere sarà la polizia, subito sotto la mancetta di spalla, quindi la Lombardia riceve di più per le pensioni, nessuna trattativa tra Stato mafia ma parziale intesa, è Massimo Martinelli, e poi andiamo a vedere qui la scoperta, immersi scritti e dipinti, dove? Al Colosseo, ecco i colori del Colosseo. Ancora avanti, rinnovamento, l'analisi a rinnovamento e demagogia Stefano Cappellini, vediamo una inquadratura complessiva della pagina e poi se ce la fa vedere, perché abbiamo dei problemi, allora passiamo, ecco qua, scusate è arrivata, Pagelle Online, abbiamo dei problemi questa mattina, vi chiedo scusa ma non dipende da noi, Pagelle Online slitta la rivoluzione in pellegrinaggio per la Concordia, il titolo che sta subito sotto, e poi Nazione Nazionale Monti Schiaffo a Bersani, oggi nomination Spielberg rincorre un altro Oscar, gli spettatori fischiano il baby atleta di colore, grosseto, razzismo a livello giovanile, veramente una vergogna, poi l'Australia devastata dagli incendi, guardate questa foto in fuga dalle fiamme, sembra davvero un film drammatico d'azione di Hollywood, portatori di fama, Piero degli Antoni con il suo commento in apertura a sinistra, famiglie senza soldi, consumi nel baratro, un tetto alle tasse, stato mafia, Pisano conferma, ci fu intesa, da una parte una cosa, da un'altra si dice il contrario. Missoni Junior chiedo scusa, col cuore spero ancora, insomma si cerca quell'aereo, il testimone è inattendibile, si parla di un'esplosione, si parla di tante cose, però insomma il problema è che non si riesce a risolvere cercando, trovando, impegnandosi per ritrovare questo velivolo. Terrore a New York, traghetto si schianta sulla banchina, decine di feriti fra pendolari e turisti, poi Umbria-Goraci chiesto il rinvio a giudizio. Giornale dell'Umbria, SOS, la regione Vara o Maxi Piano, Asle e ospedali 8 in corsa, poi Terni l'anno inizia all'insegna dello smog, guardiamo se c'è qualche cosa in più. Verso un nuovo volo per la Calabria, l'annuncio dato da Ryanair, bellissimo, e poi i 40 anni di Umbria-Gaz, edizione speciale, le mosse di Carlo Pagnotta, c'è quindi una intervista con il patrono di Umbria-Gaz, nazione locale, presi due rapinatori della farmacia, il colpo da Lemmi l'assalto con il rocchetto in mano, accusati due perugini, poi processate Goraci, svolta nell'inchiesta che ha sconvolto la regione, l'Imu, Imu, Imu, l'Ater paga 2 milioni, case popolari 10.000 famiglie in cerca di alloggio, nel PD ora c'è il nodo dei rimpasti, sparò al Trans per questioni di droga, come sempre, inquinamento senza freni, 30 bici elettriche a Perugia, e quindi Perugia va a pedali, non è facile visto che ci sono salite, per questo che si usano le bici elettriche, Sanitopoli si arena su Rionmi, giustizia lenta, ladro distratto rischia di far saltare la zona, poi Caso Boateng nella città di Jacopone, corri razzisti contro gli stranieri del Casa Castalda, club multato, Anquanti ancora con il Corriere dell'Umbria rapina alla farmacia due arresti, opera IMS di nuovo in comune, Monti Duro non sono la stampella di nessuno, tornano le targhe alterne a Terni, ce ne siamo interessati, ieri tenta il suicidio spinto dalla musica rock, c'è un po' di tutto, davvero se ne sentono di tutti i colori, volevo vedere se avevo preso il messaggero locale, no, eccolo qui, rifiuti, incubo, doppia bolletta, rapina da lei mi presi due tossici del centro, l'addio del fisico, chiedo scusa, Roberto Battiston, Perugia non vede sul valore di Terni, ancora avanti gli rubano l'identità e finisce nei guai, Corri razzisti multato il Todi, nebbia e pioggia è quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, secondo l'angolo del meteo di Gilberto Scalabrini, e poi liste PD ombre rosse, aspettando Goro si fa il verso ad una celebre opera al titolo. sosta selvaggia da record, i multati sono 8 mila. Abbiamo visto i giornali cartacei, e adesso diamo invece uno sguardo a quelli telematici. Cominciamo con Umbria Journal, eccola qua, Perugia fermati i rapinatori della farmacia Lemmi, qui ci sono le foto di Giancarlo Belfiore, che potete vedere qui in questo momento, anche volendo a schermo più grande, per quanto riusciate a vedere, visto che è YouTube. Poi sotto finanza sequestra prodotti pirotecnici, qui nel sommario, come lo vedete in questo momento, è anche il presunto sparatore del transessuale. Poi qui di spalla David Trio agli amici della musica. Ancora vediamo se c'è altro, omicidio Rossi-Gheorghita non centro nulla. E la presentazione della lettera pastorale dei Vescovi Umbri, l'incontro è quello di domani mattina alle 11, presso la sala stampa del Sacro Convento. Poi vinti anche l'Europa, chiedo scusa, contro l'Imu. La si abolisca e si introduca una patrimoniale sui grandi patrimoni. Vediamo se ci sono altre notizie. Notizie, vabbè, possiamo andare avanti con Umbria 24. Alluvioni colpa del meteo, non del meteo ma dell'uomo. Poi SEL presentazione dei candidati a coreliste, Piccolotti si eletta subito dimissioni. Tassa di soggiorno, battaglia comune, albergatori, balzello, scelerato, no, è un investimento. Volo a Ryanair, Perugia, la mezza termi, termi, l'amministratore delegato Liray apre al collegamento tra Umbria e Calabria. Speriamo che ci siano anche altri voli per l'estero. Prima o poi ce lo auguriamo. Poi Umbria Left, arrivano i sommergibili, tagliano gli ospedali e dopo gli F35 comprano gli U212. Perfettamente giusta la denuncia di Umbria Left. Chissà che ci facciamo con i sommergibili. Andiamo a vedere qualche altro. Tavernelle, SPCGL contro la riorganizzazione dei servizi assistenziali. Poi l'incidente stradale, 86 anni, investita a Perugia, è grave. Il primo l'avevamo visto. Il secondo, caro Salvinti, anche l'Europa contro l'imobolirlo e introdurre la patrimoniale. Morirla, abolirla, magari forse sarebbe più corretto. Vediamo qui se ci sono altre notizie. Qui data era un bilancio positivo a due anni dall'unificazione. Ancora abbiamo uno sguardo. Termi e Targa Alterne. Poi in Groia, dati dimostrano che Monti mente. Sicurezza stradale, venerdì 11 gennaio. Presentazione proposta di legge regionale. È tutto per questa nostra rassegna stampa. Buona giornata.